Siamo da Pitti Uomo 75, siamo in compagnia di Massimo Lonigro, ideatore e creatore di Fashion Helmet. Ciao Massimo e benvenuto su Stella in Fashion. Ciao, buongiorno. Massimo, quali sono le principali novità che Fashion Helmet presenta a questo Pitti? Noi abbiamo mantenuto, dopo una prima apparizione, nei 50 punti vendita più rappresentativi in Italia e all'estero, il nostro qua con una riga RegiMetal che viene, come già stato recensito, dalla cultura della cravatteria, quindi dal gusto di una cravatta qua o a righe, proprio dalla sua casco, abbiamo sviluppato molto la personalizzazione, appunto per fidelizzare la clientela anche finale, dicevo quindi la personalizzazione del casco in pelle. Noi riusciamo a gestire un pezzo singolo, customizzato con i colori o con un eventuale inserimento di cifre da parte del cliente in una settimana. Tutto rivestito in pelle e fatto a mano in una settimana, naturalmente solo rigorosamente in Made in Italy. Grazie Massimo e a presto. Grazie a voi, ciao.